salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi ce ne andiamo con Ilaria dietro a mangiare il pesce a Bolsena tanto il tempo dovrebbe reggere quindi speriamo che non venga a piovere è un po' nuvoloso ma in teoria dovrebbe rimanere nuvoloso quindi finchè è nuvoloso va bene adesso siamo a Viterbum adesso da qua andiamo verso Bolsena e poi vediamo un attimo dove fermarci a mangiare perché lei vorrebbe mangiare il pesce quindi troviamo un posticino carino dove si dovrebbe mangiare bene tanto sempre tramite TripAdvisor io vado a cercare quindi mo vediamo mo vediamo tanto lì c'è un ingombro di una signora al volante che non sa ancora che quando ti metti nella rotonda hai la precedenza ma va bene e niente ragazzi speriamo davvero che il tempo regga perché comunque a temperatura si sta bene ma a parte sulla cimina che fa un po più freschetto come è normale che sia comunque siamo intorno ai mille metri però già qui a Viterbo si inizia a stare veramente bene eh e niente ragazzi tanto qui è tutto traffico quindi ci vediamo direttamente sulla strada per Bolsena che è tanta tanta roba molto molto divertente eccoci qua ragazzi siamo sulla strada per Bolsena eccoci qua ragazzi siamo sulla strada per Bolsena io questa strada ve la consiglio se siete in zona ragazzi perché è uno spettacolo veramente eh l'asfalto è ottimo la strada è bella divertente quindi se siete in zona io ve la consiglio vivamente vivamente eccoci qua eccoci qua e praticamente siamo arrivati ormai a Bolsena mancano 5 minuti eccoci qua Qua se ci venite il fine settimana Pieno dei motociclisti Pieno pieno Siamo arrivati Da Guido Proprio sul lago A mangiare Adesso andiamo a prendere Spaghetti con le vongole Sprega fioi Le capelli è un cazzo di cane Quindi faremo Antipasto di carne Quindi di terra Antipasto di terra E spaghezione le vongole Come no? Si fa a me sto mare e terra Poi uno magna quello che cazzo gli pare Se volessi mangiare solo il pane Potrei mangiare solo il pane Vediamo pure come si mangia qua Che da Movenice un'altra volta Ma alla fine non ci sono venuti Perché era chiuso Non mi ricordo Poi era pieno Non mi ricordo Quindi mo' vediamo come sono le prelibatezze Ah che mangiata ragazzi Abbiamo preso pure il dolcetto Ilaria un Suppa inglese E io Che cacchio era? Panna cotta e frutti di bosco Abbiamo mangiato bene ragazzi Abbiamo mangiato bene Adesso Si riparte Per ritornare a casa Poi tra poco dovremmo anche fare benzina Perché avevo messo 15 euro A breve credo che la riserva si farà vedere Comunque va freschetto Questo vento fa veramente freschetto Che tra l'altro rispetto a prima Adesso che stavamo mangiando Si era alzato molto E adesso ci rifacciamo questa bellissima strada Alla prossima Stomago pieno Che vodica fa Stomago pieno Stomago pieno Grazie a tutti.